Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. La scorsa puntata è stata lo speciale 500 episodi dove ho fatto un tour completo di tutto quello che ho costruito nella serie e anche durante le live. Vi invito come sempre a venirmi a trovare su Twitch ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.30. Il link del canale lo trovate come sempre in descrizione. E oggi ragazzi ricominciamo da uno? Beh sì, da 501 e andremo a costruire qualcosa qui nella zona dove c'è la stalla delle capre, praticamente di fronte alla parte con il mulino che vedete adesso alle mie spalle. Quindi preparatevi e iniziamo l'episodio. Allora questa è la piccola stalla dove ci sono le capre. Come vedete sono all'interno di questo recinto. Notate che tutte quante le capre hanno perso le loro corna perché in Minecraft quando queste capre vedono un'entità che può essere per esempio un mob, cercano di caricarla e se vanno a sbattere contro un blocco perdono una delle loro corna. Queste corna hanno una particolarità, si possono suonare. Ce ne sono otto in tutto. Quattro che si possono ottenere dalle capre normali, tra virgolette, e quattro dalle capre urlanti che sono più rare perché abbiamo solamente il 2% di probabilità che possano sponare quando andiamo a farle riprodurre. Quindi vorrei automatizzare questo processo per poter ottenere tutte quante le otto corna. Come fare? Beh adesso ve lo spiego perché qua sotto andremo a fare una piccola farm automatica di corna di capra. Allora ragazzi mi sono anche un pochino portato avanti con il lavoro perché da questa parte c'è questa botola che ci conduce in questa stanza che conterrà la farm. Qua vedete che c'è un altro buco che arriva all'interno della stalla perché qui andremo a portare tutte le corna che recupereremo da questa farm all'interno di un barile che posizioneremo direttamente dentro la stalla. Quindi sarà quasi totalmente automatica perché quello che dovremo fare diciamo manualmente è andare a far riprodurre le capre e poi a portarle una volta cresciute in una zona particolare dove appunto andranno a rompere le loro corna. Ecco questo è il punto dove metteremo un barile per fare appunto la raccolta di tutto quanto. Adesso iniziamo a costruire la parte qua sottostante. Allora prima di tutto devo fare una parte con un minecart con hopper che andrà a raccogliere tutte le corna che praticamente le capre perderanno. Allora dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per 2, 3, 4 e 5 e qua andiamo a mettere la cobblestone, della redstone e delle rotaie per far viaggiare il minecart. Allora facciamo quindi così prima di tutto. Perfetto. Qua mettiamo la cobblestone perché faremo andare appunto i minecart. Qua andiamo già a mettere degli hopper che mi serviranno poi per fare l'ascensore per gli oggetti per arrivare alla cassa qua. Quindi ho già portato 3 hopper e ne mettiamo 1, 2 e 3 qua e qua sopra viaggerà il minecart che appunto scaricherà tutto il contenuto in questo punto. Poi per alimentare le rotaie utilizziamo questi blocchi di redstone. Ne mettiamo 1, 2, 3, 4 qua e poi altri 4 qua. 1, 2, 3 e 4. Il resto andiamo a riempire tutto con la cobblestone e poi andiamo a posizionare le nostre rotaie. Ok perfetto così. Poi io vado a mettere questi per far partire il minecart così e poi vado a creare tutta la parte con le rotaie. Adesso direi di proseguire di qua così. Qua intanto non si alimentano. Qua possiamo mettere delle rotaie alimentate quindi facciamo così e così. Questa dobbiamo togliere. Adesso sarà un solito problema di come andare a posizionare queste rotaie perché è sempre un problema. Quindi le mettiamo una qua, una qua e una qua. Ok quindi il minecart fa così. Qua procede e qua deve fare altre due rotaie alimentate. Poi devo mettere altre due rotaie alimentate qua così. Altre due le metto qua e altre due le metto qua. Poi qua altre due, qua altre due e poi qua in fondo ci sarà il blocco che fermerà il minecart. Adesso non so se lì o qua. Adesso vediamo. Forse serve, basta anche qua. E andiamo a mettere ora le rotaie. Quindi facciamo una serpentina. Quindi questo va di qua, questo sale così, questo procede, sale così, va di qua, sale così e qua arriva in fondo. Adesso vediamo se metterlo qui o qui. Ora vedo un attimo. In questo modo quando andiamo a mettere il nostro minecart in questo punto e una leva qua, quando facciamo così il minecart farà questo giro. Quindi raccoglierà tutto quello che c'è sopra, tornerà indietro e andrà a svuotare man mano che passerà sopra questo per quello che ha raccolto. Bene ora andiamo a fare la piattaforma sopra. Possiamo mettere un blocco qua e andare a chiudere tutto quanto qua sopra. Alla fine ho messo il blocco qua e ho aggiunto un'altra rotaia alimentata. Quindi facciamo così. Arriviamo fino a qua e andiamo a chiudere la piattaforma così. Poi qua dovremo salire in qualche modo e andiamo a tappare. Faremo due piani in questa farm. La prima dove andremo a far riprodurre le capre e aspetteremo che crescano. E la seconda qua sotto dove le capre cresciute andranno a sbattere le loro corna contro un blocco attirate da un'entità e romperanno il loro corno che quindi finirà all'interno del minecart nonché nella cesta qua sopra. Dunque ora andiamo a togliere un attimo queste due torce. Tanto la salita la faremo più da questa parte in alto. Ora andiamo a fare un contorno qua. Tutto bello completo. No più largo. Qua. Ok. Togliamo anche questa torcia. Poi le riposizioneremo in modo che non diano fastidio. Ok. E qua andiamo a fare così. Perfetto. Quindi circondiamo tutta questa parte perché qua andremo a utilizzare ahimè la lava per poter andare a eliminare le capre che oramai avranno perso tutte le loro corna e non serviranno più. Lo so è una cosa brutta però ragazzi questo è il funzionamento. Allora come andremo ad attirare le capre contro un blocco? Abbiamo detto all'inizio che reagiscono alle entità. Quindi noi andremo a incastrare una gallina all'interno di una barca qui. La proteggeremo in modo che le capre non possano colpirla ma che vadano contro un blocco. Però qui devo fare un'altra cosa. Dato che le capre qui abbiamo detto che le andremo a eliminare con la lava devo proteggere la parte con la barca e con dentro la gallina dalla lava. Quindi vado a mettere queste trapdoor che non bruciano quando c'è il fuoco. Quindi qua non c'è nessun problema. Qua andrò a mettere la barca così e cercherò di incastrare una gallina. Come vedete qua ho un po' di uova. Adesso farò crescere un pulcino. Dopodiché lo faremo entrare all'interno della barca. Intanto andiamo a costruire il resto. Quindi ricordatevi bene che questo tipo di legna che è quella che si trova nel nether non brucia con il fuoco oppure con la lava e questa è una cosa interessante. Allora ecco qua la nostra parte. Questo è il punto dove le capre andranno a sbattere praticamente per poter perdere le corna. Adesso qua sopra ho fatto questa cosa così in modo che andando qua sopra con delle uova cercherò di far crescere un pulcino. Qua sotto c'è la barca. Poi aprirò il blocco qua sotto e vediamo se riusciamo a farla entrare. Quindi vediamo intanto se riusciamo a fare un pulcino. Perfetto. Ora dobbiamo semplicemente aspettare che cresca e farlo entrare nella barca. Quindi ragazzi piccolo taglio e poi proseguiamo. Ok la gallina è entrata. Un piccolo trucchetto. Quando è cresciuta rompete il blocco che c'è sotto di lei. Poi se non entra nella barca usate un seme per attirarla in modo che lei cammini verso di voi e finisca incastrata dentro la barca. A posto. Adesso possiamo andare a mettere qua un dispenser che farà uscire la lava e un altro lo mettiamo qua sempre per far uscire la lava che ovviamente si fermerà perché ci sono queste trapdoor. Il resto lo andiamo a rivestire con il vetro in modo che possiamo vedere dentro che cosa succede nella farm. Allora andiamo adesso a posizionare un po' di redstone. Andiamo qua a fare una parte così in modo che andremo con un bottone ad azionare questi due dispenser. Quindi qua anzi questo non serve. Possiamo andare a mettere qua della redstone così quindi qua qua. Qui andiamo a mettere un bottone che andiamo a fare di stone così da far partire il segnale e il segnale lo andiamo a portare di qua. Lo so sto mettendo la redstone sul vetro ma va bene così ragazzi altrimenti non riusciamo a fare una cosa dove si vede dentro. E qua andiamo a mettere la lava sia qua che qua dentro. Ok ora se io faccio così ragazzi vedete la lava esce andrà a propagarsi qua non andrà a prendere la parte con la gallina vedete. Qui le povere capre arrostiranno. Dopodiché basta fare di nuovo così la lava se ne va e quindi potremo far riprodurre di nuovo le capre. Ok allora andiamo a fare così. Qua possiamo chiudere con la pietra tanto va bene. Avrei potuto usare un altro materiale visto che qua è tutta pietra ma va bene lo stesso dai ragazzi fa niente. In questo modo qua sopra facciamo un contorno così di vetro così vediamo dentro anche dall'alto così perfetto. Qua adesso devo mettere un pistone ok qua ci attacchiamo questo così perfetto devo risalire adesso in qualche modo rompiamo questo ok e andiamo a completare la parte qua con il vetro quindi qua chiudiamo qui lasciamo il buco aperto e qua andiamo a tappare tutto con la pietra così perfetto voilà dovremmo esserci perché qua se tolgo questo magari che di troppo quando andremo ad azionare il pistone e lo faremo poi con un'altra leva questo si sposterà qui e non farà cadere le capre che ovviamente saranno all'interno di questa parte con il vetro. Allora qua ho messo questa cobblestone qua perché dovremmo portare il segnale da un'altra parte dove c'è appunto il dispenser con l'acqua che ho portato per poter poi spostare le capre in questo punto con questa leva andremo a chiudere il buco che fa scendere la capra qua sotto e qua andiamo a mettere appunto il dispenser che possiamo mettere tranquillamente qua che andrà a spingere con l'acqua le capre e qua andiamo a mettere di nuovo tutto quanto il vetro intorno così perfetto qua chiudiamo direttamente così perché qua ci sarà un'altra parte con la cobblestone che salirà e qui andiamo a chiudere con la pietra in questa maniera ok qui abbiamo lo spazio magari possiamo anche salire di un altro blocco qua inutile arrivare fino a qua ok e poi qua avremo una scala adesso vediamo un po come fare quindi qua mettiamo 1 2 3 4 di cobblestone qua saliamo ancora e facciamo tutta la parte con la cobblestone per arrivare non tanto qui ma dobbiamo mettere un observer rivolto verso questa direzione qua in modo che il segnale sia sotto ecco ha funzionato infatti e adesso vado a mettere la redstone quindi metto la redstone qua questa si ritira perfetto e di nuovo uscita ok va bene qua scendiamo così e andiamo ad unire tutto alla parte dove c'è la la leva qua per far arrivare bene il segnale fino alla devo mettere un repeater così perfetto e adesso dovrebbe funzionare se io faccio così si apre la botola e arriva l'acqua vedete che qua non entra l'acqua perché è studiato apposta le capre verranno spinte qua cadranno qua sotto e poi dovranno rompersi le corna contro il blocco quando invece farò così l'acqua rientra qua rimane chiuso e le capre piccole potranno riprodursi in questa zona ora non mi resta che andare a mettere altro vetro qua per andare a chiudere la parte così qua possiamo anche mettere in questa maniera e fare un tetto anche il tetto direi di farlo in vetro quindi qua ci sono due blocchi qua poi dovremo fare un'apertura dove entrare per far riprodurre le capre quindi adesso andiamo solo a coprire il tetto così e poi dovremo portare qua le capre allora il mio consiglio è di portarne qua almeno quattro perché altrimenti ci vuole un sacco di tempo per avere tante caprette più ne mettete meglio è ovviamente ok ragazzi diciamo che è stata un'impresa abbastanza complicata portare qui quattro capre perché non collaborano come tutti gli altri mob però ho fatto un po di buchi alla fine sono riuscito a farle cadere qua dentro come vedete qua ho messo questa botola per entrare e adesso andremo a utilizzare questi guinzagli per attaccare le quattro capre in questo punto per due motivi il primo è perché così rimarranno qua vicine quando le andremo a riprodurre e non dovremo fare entrare noi all'interno di questa parte rischiando che appunto le capre ci attacchino e seconda cosa quando andremo a usare l'acqua le capre rimarranno qui e non cadranno nel buco altrimenti perderemo anche le quattro che ci servono per fare tutte le caprette piccole che poi serviranno per la parte sotto della farm quindi questo dovete farlo per forza adesso io vado a togliere questo blocco qua vado ad aprire la botola prendo le quattro capre al guinzaglio esco se riesco esco se riesco ok così rimetto ok qua il vetro e attacco questi direttamente qua ok e qua metto la nostra botola ora le capre non potranno più scappare da qua anche se andremo ad azionare l'acqua perché vi faccio vedere allora qua devono esserci uno due tre blocchi e vi faccio vedere se io vado ad azionare la leva quindi così voilà esce l'acqua questa non l'ho attaccata mannaggia te l'ho fatta cadere no ce l'ho ancora ragazzi ce l'ho ancora però non salirà mai più qua e vabbè niente quella sarà la prima capra che utilizzerò per l'esperimento ne vado poi a far riprodurre un'altra qua dentro praticamente sono riuscito a recuperare il guinzaglio qua sotto e credo che la capra abbia già dato una cornata alla parte lì perché ha già perso un corno quindi se è vero quello che eccolo lì esatto perfetto quindi aspettate perché se adesso io scendo qua faccio partire il minecart il corno dovrebbe essere raccolto e portato qua all'interno eccolo fantastico fantastico ragazzi bellissimo quindi questo qual è funziona già ragazzi e adesso noi andiamo a far riprodurre queste una poi la terremo ancora per metterla qua quindi la prima che riproduciamo che sarà il piccolino eccola qua quando crescerà la terremo come quarta capra ora non so perché si è buggato ma devo dire che la nostra farm ha funzionato intanto che aspettiamo che la capra si riproduca e poi riusciamo a farne un'altra eccetera eccetera andiamo a costruire il meccanismo per portare le corna che raccogliamo direttamente dentro la cesta che c'è sopra allora ho notato una cosa che il corno che ha perso la capra che tra l'altro ho tolto perché oramai le aveva perse tutte e due è finito sopra questa trapdoor non so se mettendo dei mezzi blocchi qua riesco a far funzionare lo stesso la cosa e non far incastrare le corna qua perché qui il minecart ovviamente non le raccoglie allora il meccanismo per portare gli oggetti qua sopra l'abbiamo fatto tantissime volte ma ve lo faccio vedere velocemente allora qua andiamo a mettere una colonna di dropper fino ad arrivare nel punto dove vogliamo mettere il nostro oggetto e qua andiamo a fare il meccanismo l'abbiamo fatto tantissime volte davvero andiamo a mettere qua una di queste così perfetto qua andiamo a leggere così va bene qua mettiamo una torcia di redstone la mettiamo qua così qua andiamo a mettere un repeater qua dovrò allargare ancora di un blocco ok così non fino in alto ma va bene qua qui andiamo a mettere un repeater verso questa direzione qua così poi qua andiamo a mettere un blocco di redstone così qua andiamo a mettere della redstone così e la redstone non ce l'ho ok qua mettiamo una torcia e poi qua dobbiamo andare a fare sì dovremmo aprire ancora qua una colonna alternando praticamente i blocchi a zig zag ora vi faccio vedere e mettendo le torce quindi qua va la redstone che adesso vado a prendere qua facciamo così poi qua metteremo una torcia di redstone così qua mettiamo un blocco così ok qua mettiamo una torcia di redstone qua e adesso qua un'altra torcia un altro blocco torcia blocco fino in alto eccoci qua ragazzi ho finito il meccanismo vedete ho fatto questa alternanza tra tutte queste torce fino ad arrivare qua in alto vedete questa è l'ultima e qua c'è il barile questo è l'ultimo dropper quindi cosa succede che quando qua finirà un oggetto tipo questo corno qua o queste tre uova vedete verranno piano piano spostate là in alto noi andiamo di sopra e andiamo a vedere se sono arrivate all'interno del barile quindi possiamo salire qua saliamo qua saliamo qua apriamo salve e andiamo a vedere nel nostro barile e voilà il nostro corno e le nostre uova questa tra l'altro senza volerlo è diventata anche una farm di uova perché la gallina appunto ogni tanto fa l'uovo che viene raccolto dal minecart quindi ok mi sta molto bene la cosa nel frattempo vedete che è cresciuta anche quest'ultima capra quindi adesso cerco di andarla a legare a questa fence e poi possiamo ripetere il processo allora ragazzi capra sistemata vedete che l'ho attaccata anche questa con il guinzaglio ora posso andarle a fare riprodurre di nuovo tutte credo spero ok adesso le lasciamo crescere e poi ragazzi proviamo a farle scendere sotto ci siamo ragazzi le due capre sono cresciute vedete che sono qua dentro adesso io vado ad aprire prima di tutto la parte qua quindi faccio così arriva l'acqua queste dovrebbero finire giù vedete queste invece no perfetto possiamo di nuovo chiudere qua potremmo ripetere il processo intanto di riproduzione qua vedete ho messo una cesta con dentro il grano per fare così perfetto queste quattro qua ok glielo ho dato a tutte sì hanno già fatto un'altra capretta perfetto e qua ragazzi sotto dobbiamo aspettare quello che è successo prima ossia che le capre vengano attirate dalla dall'entità qua sotto ho fatto la prova con le slab ma le capre non vedono più l'entità quindi non è possibile fare questa cosa qua ecco ha perso il corno forse un altro adesso il minecart l'avrà raccolto e vado a vedere sopra ovviamente vado a vedere sopra ne avevamo solamente uno vediamo se ne otteniamo un secondo bellissimo bellissimo vediamo ok abbiamo il sick quindi un altro corno veramente fantastico ragazzi e già otto uova se mettessi un'altra gallina all'interno della barca potremmo anche avere più uova beh comunque avete una doppia farm quando avrete ottenuto tutti quanti i corni potrete comunque utilizzarla come farm per le galline quindi meglio di così cosa volete e dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio mi raccomando come sempre di lasciare un like iscrivervi al canale e vi aspetto questa sera in live sempre con la vanilla a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti